Dallo scorso lunedì consultare il sito web del Comune di Sala Consiline è più semplice, ancora più utile e vicino alle esigenze dei cittadini. Ieri sera presso il Polo Culturale Cappuccini è stato presentato il nuovo sito web istituzionale arricchito nelle sue funzionalità. Circa due anni di lavoro da parte dei referenti che hanno realizzato il nuovo portale riuscendo ad inserire al suo interno anche tutte le informazioni presenti nel vecchio sito al fine di consentire anche la consultazione dei vecchi dati. Più facile da consultare il nuovo sito web di Sala Consilina è tra i più aggiornati e avanzati tra i siti istituzionali presenti con caratteristiche e funzionalità che si rifanno ai siti di enti e di istituzioni ben più grandi e all'avanguardia riuscendo a coprire un servizio che per i piccoli comuni possono sembrare superflui ma sono di grande utilità per i cittadini e per i contribuenti come spiegato dal responsabile ufficio tecnico del comune di Sala Consilina Tilio De Nigris. Il nuovo sito si ripropone dopo 12 anni in una nuova veste di maggiore versatilità soprattutto per i cittadini. È un sito che ovviamente viene riproposto per poter dare maggiore accessibilità non solo ai cittadini diciamo comuni ma anche ai diversamente abili e quindi dare l'occasione a tutti di poter accedere ai servizi online dell'ente comune di Sala Consilina. Servizi che ovviamente sono diversificati in diverse attività e che praticamente tutti quanti i cittadini potranno utilizzare in una versione anche da tablet e quindi adattabile alle vari mezzi di poter trasmissione diciamo di attività dei siti web. Sul sito troveranno i cittadini diverse funzioni che vanno dal pago PA quindi la possibilità di poter pagare online determinati servizi dell'ente comune di Sala Consilina fino anche allo speed che permette di avere questa famosa identificazione digitale sui servizi del cittadino. Ovviamente troverete sempre la versione degli albipretori o degli archivi storici che riguardano il comune di Sala Consilina. Poi c'è una chicca che è stata fatta sul nuovo sito web riguarda soprattutto i servizi al turismo e alla cultura, soprattutto indirizzate a quelli che sono i servizi in rete per la città di Sala Consilina e ovviamente anche nel Vallo di Diano. A spiegare le novità introdotte con il nuovo sito web già consultabile all'indirizzo www.comunesalaconsilina.it sono stati referenti del sito che hanno lavorato alla sua realizzazione. Ad introdurre lavori di presentazione ieri sera il sindaco Francesco Cavallone e l'assessore all'innovazione tecnologica Michele Galiano che hanno elogiato gli ideatori del nuovo portale evidenziando come si tratta di tecnici dipendenti del comune consentendo quindi anche un notevole risparmio per le casse dell'ente. Noi siamo partiti proprio dallo sfruttare quelle che sono le nostre risorse interne per adeguare e migliorare questo sito che già Sala Consilina aveva nel proprio bagaglio già nel tempo passato. Credo che sicuramente sia stato fatto un ottimo lavoro di restyling dello stesso. attraverso la consultazione di questo sito sicuramente i cittadini potranno avere tutte le notizie che riguardano nei vari campi le problematiche che riguardano le informazioni tutte le cose più importanti che riguardano il nostro comune quindi invitiamo i cittadini a consultarlo perché attraverso la consultazione del sito sicuramente si potranno avere quelle notizie indispensabili e utili anche per il proprio vivere quotidiano senza doversi muovere e regarsi sul comune ed apprendere direttamente quella che è stata la notizia. È un punto di inizio, non è solo una nuova veste grafica, non è solo un sito più bello graficamente ma un sito che è funzionale alla transizione al digitale. Transizione al digitale significa trasparenza, un obiettivo trasparenza da parte di questa amministrazione e la trasparenza è uno degli elementi fondamentali della buona amministrazione. Questa amministrazione vuole portare avanti la digitalizzazione per facilitare l'accesso da parte di tutti i cittadini e per rendere più chiaro e comprensibili ogni procedimento amministrativo.